Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ci avete suggerito nei canzoni nei commenti siamo andati a cliccare sul link di una canzone del maximum di hormone che non si può leggere il titolo non ci può grazie del link di averci spiegato la storia storia del video precedente del maximum di hormone grazie mille 3 2 1 sembra uno storytelling dietro comunque ma non mi faccio più ingannata all'intro pure l'altro iniziava tranquilla la faccia come non fai a morire adesso come fai bellissimo bellissimo tra i lyrics questo qua è già più pesante si i banchi messi si bellissimo ecco un gesto a cantare io lo sapevo ma sapevi come fanno dai la capata ma poi non so quante stili di la capata che ci hanno messo nel video è assurdo qua tutti fanno tutto cioè è assurdo tutti sanno che è da singolo lito che è scrivato ciao ciao scuola ciao è l'ultimo giorno di scuola ok innanzitutto il video è veramente assurdo è assurdo quando la musica c'è un botto di stili c'è un qualsiasi gruppo avrebbe scelto uno stile di disegno ho capito no qua partono prima nella stanza poi loro diventano dei fumetti poi diventano tipo fotomonti tipo stig la canzone è sempre imprevedibile non so quante parti si sono cambiate che poi non te ne accorgi se c'è una strofa o un ritornello perché si invertono ti riconosci capito ti riconosci capito c'hanno 10.000 cose in ogni canzone ma le parti in pulito le riconosci so proprio a stile loro sono loro i breakdown pure semplici però d'impatto loro non rispettano nessuno standard però sono comunque famosissimi quindi evidentemente c'è comunque musica che la gente piace non è una cosa di nicchia ma poi piace a tutti il suo stile qua sì è vero infatti sì cioè forse proprio per questo c'hanno così tanto pubblico perché solo mischiano tutto cioè le animazioni gli effetti sono perfetti eppure le varie qualità di video non contrastano fra loro sono mischiate bene cioè noi ci facciamo caso perché ok però non è che stonano fra loro come nella musica tutte le varie influenze non stonano fra loro c'hanno una storia i video le ambientazioni delle location che tu ti ricordi sono molto ironici cioè nel senso non è quell'ironico che però è troppo capito cioè ci mettono la capito del frame il venino che ci sta capito sono loro perché loro sono fatti così evidentemente capito sì 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 bellissimo quindi mi accorto sono tutte parti diverse continuate a suggerire nei link o loro band simili tutto quello che volete tanto lo sapete noi siamo qui se il video vi è piaciuto un like un commento e se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi porfavor fatelo per favore e noi vi diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.